Ciao, questo è il mio primo video sulla virtualizzazione a livello enterprise. Premetto che non sono un esperto, ma un appassionato che provando riparolando è riuscito a raggiungere gli scopi. Ho deciso di iniziare la realizzazione di questi video a causa della mancanza di video tecnici in lingua italiana su internet, nelle altre lingue se ne trovano molteplici, ma in lingua italiana non esiste nulla o quasi. La mia configurazione casalinga per le prove è la seguente, quello che vedete che è un HP microserver G7N54L con 8GB di RAM, che è la massima configurazione, eccolo qua, e due sempre HP microserver dall'ottava generazione, sempre con 8GB di RAM. Questi nuovi server ne sopportano fino a 16GB di RAM. Nel prossimo video ti farò vedere la funzionalità ILO, quindi di controllo remoto, la quale mi consente la cattura video di un'intera installazione software. Ciao, alla prossima!